Ciao Baskers, io ho tutto pronto. Sto per uscire, sto per andare a fare un po' di basking. Andiamo a Roma e vediamo un po' che cosa trovo, se trovo qualche posto, qualche spot dove si può suonare bene, soprattutto dove non ti rompono i coglioni. Non andrò al primo municipio perché lì se non hai il permesso è un macello, sicuramente ti fanno la multa, quindi cercherò un altro posto, in giro, vediamo un po' che riesco a trovare, ora vi faccio sapere. C'è questo posto qua, l'uscita della metro, sembra essere buono, ci sta il passaggio tra gente che esce dalla metro e ora provo a montarmi dai, provo a suonare qua un po', vediamo che succede. Ok, ho preparato tutto, è pronto e ora inizio, vediamo un po'. Ok, già abbiamo i primi imprevisti, cioè non mi funziona un amplificatore. Niente, l'avevo provato a casa, funzionava e si era rotto, già aveva avuto un problema. Funzionava e adesso non funziona più, quindi dovrò riaprirlo a casa. Vabbè, niente, dai, il continuo senza amplificatore si fa uguale, non c'è problema. Vabbè, niente, dai, il continuo senza amplificatore si fa uguale, non c'è problema. Grazie. 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 ritorna, ritorna Mussolini, ritorna Mussolini, ritorna, ritorna Mussolini è un segreto ragazzi non è successo davvero Eri una bella, gira sana, purgana, piena di vita, piena di grana, e adesso non ce la fai vedere, perché? Ciao! E lì ti lascio per sempre, sospeso e immobile, fermo e immagine, un segno che non passa mai. Baby, don't you wanna go? Come on! Baby, don't you wanna go? Well, nascere che, sospè, in chicago. Come on! Baby, don't you wanna go? Well, nascere che, sospè, in chicago. allora basket io ho finito ho smontato perché fra poco tramonta il sole cioè già tramontato però tra poco viene proprio il buio quindi me ne sono andato penso peggio ragazzi devo dire non me l'aspettavo quando ho visto come l'amplificatore non funzionava mi sono impanicato però poi devo dire che è andata bene forse avrei fatto qualcosa in più con l'amplificatore quello sicuramente però pensavo peggio va bene sono contento e niente spero che vi sia piaciuta oddio sto facendo una faticaccia per arrivare alla macchina che l'ho parcheggiata in salita ma mi vado a mangiare una cosetta e torno a casa niente spero vi sia piaciuto ciao buskers alla prossima e dai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti